Il comune più virtuoso è Civitella in Val di Chiana con il 71,20% di raccolta differenziata più 1,67% rispetto al 2017, seguito da Monte San Savino con 70,50%, un incremento di oltre 4 punti percentuali e Lucignano al 68,14 che segna una crescita di oltre 10 punti in percentuale più 10,44. Questi alcuni dei dati pubblicati dall'Agenzia regionale Recupero Risorse che si riferiscono alla raccolta differenziata dell'anno 2018. L'analisi rileva nel territorio del lato Toscana Sud una percentuale di raccolta differenziata del 41,92% con un aumento di 2,53 punti rispetto all'anno precedente. In Toscana nel 2018 sono stati prodotti 2,28 milioni di tonnellate di rifiuti urbani con una produzione media pro capite di 613 kg. La produzione media di raccolta differenziata regionale si attesta dunque sopra il 56,05% con un trend di crescita di circa 2 punti in percentuale rispetto al 2017. Tornando al territorio provinciale e aretino confermano performance oltre la media regionale Capolona, Castelfranco, Pian di Scocca, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Marciano della Chiana, Subbiano e Terra Nuova Bracciolini. Rimane invece pressoché invariata la situazione del comune capoluogo con Arezzo che registra una leve flessione positiva del più 0,48% assestandosi così al 40,31% di raccolta differenziata.